Siamo giunti al termine di questa fantastica selezione del Beauty Queen Triveneto, siamo al Teatro di Abano Terme e adesso continuiamo la chiacchierata con le nostre ospiti. Dolores, grazie per essere con noi. Allora, cosa pensi della vincitrice della serata? Grazie a voi di avermi invitato e tutto. Guarda, la vincitrice è stata fantastica, la prima e la seconda sono state meravigliose, però devo dire che anche tutte le ragazze si sono impegnate. Poi naturalmente sai, ognuno ha il proprio gusto, ognuno ha la propria tecnica di esporre i propri personaggi e tutto, però devo dire veramente molto brave. Sto aspettando la finale. Assolutamente sì, abbiamo già ricordato ai nostri amici l'appuntamento di Bologna. Quali sono le caratteristiche che secondo te la vincitrice nazionale dovrà avere? Ma sai, il tema è molto particolare in questo concorso, non c'è lo spettacolo della drag, per cui il tema, in questo caso, questa sera l'Animalier, oppure comunque il tema che ci sarà, e che dire, è molto difficile, perché insomma è l'importante che loro entrino e anche una cosa molto importante che si divertino, perché divertirsi fai anche già metà dell'opera, del lavoro che uno ha pensato in primis. Poi sai, sono tante settimane che loro si preparano i costumi, che scelgono il look, per cui insomma vinca la migliore. Vogliamo concludere con due parole di augurio alla vincitrice di questa sera, ma anche alla futura vincitrice nazionale. Allora che dire, beh, questa sera bravissime, brava Nana Saturno, prima arrivata, seconda Mary Maison, fantastiche tutte le ragazze, e la vincitrice di Bologna poi alla finale l'8 maggio alle ore 17.30 a Bologna, insomma, tanti auguri, veramente un mega bacio. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie a voi.